Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono qua per fare una reaction perché è uscito il nuovo video dei Seventeen per il comeback di novembre. Via! Ah, queste cose che si vedevano anche tipo nei promo spoiler. Questa musichetta è inquietante. Questa musichetta è da circo. Ma che aspetta è? Sound rock qua c'è? Oh, scoops grigio. Porca. Oh mio Dio, Joshua Rosa. Oddio. Beh, le piace meglio un completino verde. Sto vedendo qualche problema. Oddio, come sono vestiti. Oshii con quel colore, oh mio Dio. Ok, la casa già mi piace come al solito. No, cioè, Junior tipo... Sei Junior. Junior è iniconoscibile. Che figo. E' qua sotto il giorno. Ciao, 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 ciao. Ciao, vero. Mamma mia, sta benissimo così. È Yonga Rosa, tipo. Mezzo pesca. Tanta roba. Oddio. Mamma mia, scop, 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 addio. Adoro. Ma cosa è sta cosa nei computer? Oh mio Dio, venga, viondo. Ce la faccio? Ciao, 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 ciao. È imparata anche io. Mamma mia, scop, 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 scop. Questo combo che è wow. Sono tutti bellissimi. Bene, per l'altro è da Alidas. Hai capito tutto? Wow. La classe, la classe. Sottottenevi a sapere nei commenti se siete con voi delle carte. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così non parlate di nessun video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.